Oh, chiama tutti, tutti dentro qua! Oh, raga, tranquillo, non smetto, non è una... Raga, quando abbiamo iniziato da primo giorno, quando sono arrivato io, poi dopo sono arrivati altri, non tanti hanno creduto in noi. Però, quando abbiamo capito di fare sacrificio, soffrire, credere e lavorare. Quando questo momento è entrato, siamo inventati un gruppo. E con il gruppo è possibile fare queste cose che abbiamo fatto. Oggi siamo campioni d'Italia. Voglio ringraziare tutti i giocatori, prima. Vogliamo, adesso parlo per tutta la squadra, vogliamo anche ringraziare Paolo, Ricchi e Ivan. Raga, non è stato facile, però questo campionato l'abbiamo fatto come un gruppo. Come ho detto, inizio di campionato nessuno ha creduto in noi. Invece, con queste parole siamo inventati più forti. Sono molto orgoglioso di tutti voi. Adesso fammi un favore, festeggiate come campioni, perché Milano non è Milano. Italia è un po' di più. Grazie a tutti!